Salve a tutti e benvenuti in questo tutorial oggi andiamo a vedere come si installa wordpress se tu ti vuoi creare un blog o un sito web amatoriale ti puoi installare wordpress che è completamente open source e gratuito te lo puoi installare e ti faccio vedere come si fa, è molto semplice ci vogliono 3 secondi non ci vuole una grossa competenza la prima cosa che dobbiamo fare ci dobbiamo andare a scaricare wordpress andiamo sul sito ufficiale e ci scarichiamo wordpress allora eccolo qua fatto questo lo dobbiamo andare a scompattare aspettiamo che finisce il download ecco qua la cartella è scompattata questo è tutto il file di wordpress e di installazione ok? allora cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare intanto tramite il nostro ftp io uso client filezilla ci colleghiamo al nostro server adesso adesso per farvi vedere come si fa facciamo questo sito qua in questo caso in questo caso io adesso creo una cartella dove poterlo scaricare andiamo andiamo praticamente dove sta la cartella la cartella la cartella wordpress e insomma l'upload di tutti i file dobbiamo andare a fare altre procedure se vi capita questa schermata spuntate usa sempre questa azione e fate ok allora abbiamo detto l'abbiamo installato su un dominio noi andiamo abbiamo fatto il dominio che abbiamo scelto noi invio in automatico parte l'installazione fatto questo dovete mettere il nome del database e tutti i parametri per comunicare con il database allora come si fa a creare un database allora generalmente si funziona così vai sulla sezione database il nuovo database metti il nome come lo vuoi chiamare la password fatto questo praticamente aspetta ok un secondo va bene mettiamo tutti i dati ok l'unico problema che dipende dal vostro hosting per esempio faccio un esempio se avete se avete praticamente Aruba non va bene localhost ma dovete mettere l'ip specifico allora in questo caso dovete per forza chiamare il vostro hosting e farvi dare tutti i dati ma se voi avete un un hosting serio come ce l'ho io come ce l'hanno il 99% delle persone in automatico insomma è abbastanza configurabile facilmente detto questo allora abbiamo detto abbiamo messo tutti i dati e ok si è collegato al database avvio installazione qui dobbiamo mettere il titolo del sito ok mettiamo un nome utente per entrare una password l'email e facciamo visibilità ai motori di ricerca ok io questo io lo io adesso lo faccio abilito scoraggi i motori di ricerca da effettuare indicizzazione perché naturalmente prima devo fare devo prima creare il sito lo devo ottimizzare eccetera eccetera e poi tolgo l'impostazione e lo faccio indicizzare a google ok allora abbiamo messo tutti i dati di accesso abbiamo fatto install e praticamente è arrivata a questa pagina adesso dobbiamo fare nient'altro che fare il login allora per entrare nel vostro pannello di amministratore dopo il vostro dominio dovete mettere slash wp-admin lasciate perdere login spingete wp-admin invio e in automatico vi arriva quest'altra è la stessa cosa però è meglio come dico io allora mi dico così ok e mettiamo la password ecco siamo entrati abbiamo creato il nostro sito questa è la parte pubblica cioè dove il sito lo vede l'utente e questa è la parte amministrativa ok con questo tutorial è tutto spero di essere stato utile iscriviti al mio canale come installare plugin come gestire come installare i template come importare una demo già fatta di un sito eccetera 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 vai nel mio canale iscriviti al mio canale e vai a vedere nella playlist tutto quanto nella cosa del sempre del mio canale e vai a vedere tutti i video che ti possono interessare su wordpress ciao e a presto grazie grazie grazie